Nasce un nuovo ed elegante complesso residenziale, che pone al centro del suo progetto stile, tranquillità e sicurezza. La maggiore residenza, la qualità dell'abitare. Un nuovo progetto in classe A energetica. Caratterizzato dalla particolare struttura, studiata e progettata, per garantire ai residenti massima tranquillità e comfort, all'interno della realtà bolognese. Gli accessi esclusivi. La caratteristica circolazione interna. Conferiscono alla residenza. Una comodità unica e ineguagliabile. Comodità che si completa con i due piani interrati di garage e posti auto. Collocati proprio sotto le unità abitative. La cura di ogni singolo dettaglio. Le finiture di pregio. E la scelta di materiali esclusivi. Interpretano con coerenza. La filosofia ricercata dal progetto. La vasta gamma di metrature, combinate con le varie caratteristiche di ogni singola unità, offrono ai clienti della maggiore residenza un'ampia scelta di tipologie abitative, atte a soddisfare ogni singola esigenza dell'abitare. Uno stile architettonico unico che esalta il glorioso passato bolognese rivisitato in chiave moderna. per rispondere alle esigenze del vivere contemporaneo, tranquillità, sicurezza, comodità ed eleganza, in ogni singolo momento della vita. La maggiore residenza, la qualità dell'abitare. istorista,